Tirocini in ambiente europeo Per partecipare basta essere in possesso di un diploma di laurea almeno triennale, avere un'ottima conoscenza di inglese e francese tedesco più un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione Europea e non aver svolto un altro stage di più di sei mesi in una delle istituzioni europee. Per candidarsi consultare il sito ecce.europea.eu alla pagina dedicata entro il 3 febbraio 2014. Oggi a questa rete è tempo di Conteste per i designer. Redesign è il contesto per i giovani designer indetto da Red Bull che cerca idee innovative per prodotti e servizi che stimolano il prociclo delle lattine di alluminio. E' possibile iscriversi entro il 31 gennaio 2014 e inviare il proprio elaborato entro il 10 febbraio 2014. Consultare il regolamento e tutte le informazioni necessarie sul sito www.polidesign.net Oggi a questa rete è tempo di www.giuventù.org dove troverete ulteriori dettagli sulle proposte da noi indicatevi.